Enrico ha sviluppato sul territorio provinciale, Enrico è una grande artista internazionale di arte contemporanea, la conosciamo tutti, ma è anche una persona che lavora per il territorio, che ha progetti territoriali molto radicati. Quando si dice arte, come diceva il sindaco prima e come hanno ricordato tutti, si sta parlando di un'arte che non è semplicemente il gioco di prendere e ritagliare delle bottiglie, perché il percorso di Enrico va oltre i confini di Novara, va oltre i confini dell'Italia. Dopo 30 anni di lavoro, tornare a Novara in uno spazio così importante, grazie davvero ad un'amministrazione che comunque è sensibile, ha dato questa libertà anche di agire, di operare, per me è un momento veramente di grande riconoscimento e mi piace che siete qua tutti con me a condividerlo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.